ciao a tutti ragazzi qui come sempre il vostro ara e benvenuti in questo nuovo video oggi andremo a vedere la differenza che c'è tra la figure di uno stesso personaggio però con una diversa fascia di prezzo ovvero la differenza che c'è tra una figure che costa circa sui 100 euro stiamo parlando dello spiderman integrated suite sh figures di bandai è una figure che costa sui 30 euro circa ovvero la marvel legends della stessa versione di spiderman detto questo andiamo subito a vedere la confezione di questo che non abbiamo mai visto quindi ve lo faccio vedere molto velocemente confezione molto molto elegante e compatta mi piacciono un sacco queste confezioni così che occupano poco spazio ma sono veramente fighe da vedere la confezione di questo l'abbiamo già vista nella sua recensione quindi è inutile stare a vedere anche la sua vi ricordo che potete trovare queste figure nel mio sito ara shop che c'è nel link qui sotto in descrizione sempre se non sono già esaurite comunque date un'occhiata al sito ma andiamo a vedere le differenze fondamentali che ci sono tra queste due figure e allora ragazzi cominciamo subito a vedere gli accessori di questa figure che non abbiamo mai visto abbiamo questo pirulino qui per usare l'eventuale basetta abbiamo questo aggeggio qui che dovrebbe essere utilizzato per cambiare gli occhi in realtà abbiamo due ragnatele trasparenti eccole qua ragazzi fate molto bene si collegano al polso e poi abbiamo le manine intercambiabili ovvero queste qui a palmo aperto molto ben realizzate queste due qui con l'immancabile gesto della ragnatela eccole qui anche queste veramente ben fatte e poi abbiamo queste due qui invece per impugnare eventuali ragnatele che però non ci sono le ragnatele che non vengono sparate in questa confezione quindi diciamo che si possono unire questi accessori e gli accessori degli altri spider man di questa linea sage figures ma adesso andiamo a vedere le nostre figure più nel dettaglio vi faccio vedere prima di tutto uno zoom su questa qui da sola e poi naturalmente la andiamo a paragonare con quella come vedete molto ben fatta dettagli assolutamente perfetti e pulitissimi ecco qui qui si toglie questo pezzo e si mette il pirulino che abbiamo visto prima per poter diciamo innestare la base sulla schiena che termine incredibile che ho utilizzato comunque ecco qua andiamo a vedere il confronto ragazzi tra queste due figure figure costosa diciamo fascia abbastanza alta medio alta 100 euro diciamo e questa qui figure poco costosa fascia bassa sui 30 euro come vedete ragazzi ci sono discrete differenze per non dire incredibili differenze vabbè a parte il colore del costume vabbè quella è stata una scelta comunque non è quella la differenza questo qui è un colore nero più scuro sul grigio quasi questo qui invece è un blu scuro poi quale dei due più accurato con la versione dello schermo è da decidere un attimo però ragazzi diciamo le cose fondamentali sono i dettagli di pittura innanzitutto questi qui comunque ben realizzati per una figure comunque poco costosa ma qui sono perfetti questi sono ben realizzati decenti discreti questi sono perfetti ragazzi perfetti ecco qua vi faccio vedere anche i dettagli vedete ci sono vari errorini qua e là che naturalmente prendendo la figure a sé e contando che costa sui 30 euro non si notano più di tanto e si accettano questa qui chiaramente ha un ben altro livello di dettaglio e ci mancherebbe altro io vi sto semplicemente facendo vedere le differenze che si possono trovare tra due figure di fascia completamente diversa che quindi non è assolutamente la stessa cosa acquistare questo pezzo e questo chiaramente non sto dicendo che non ci si può accontentare di questo attenzione ma vi sto facendo semplicemente vedere le differenze qua vediamo anche il fatto che per esempio nelle scanalature della ragnatela vedete c'è del painting nero invece qui non c'è assolutamente è un'altra differenza fondamentale a parte tutto lo scalp del corpo anche lì poi si può star a vedere qual è il più fedele al film ma penso proprio che sia questo la differenza fondamentale dicevo sono le articolazioni e non solo per quanto riguarda i movimenti vedete questo qui fa un movimento del genere al busso questo qui fa lo stesso movimento praticamente ma con articolazioni completamente diverse adesso andiamo a vedere le articolazioni di questo per completezza da solo abbiamo la testa può guardare verso l'alto in questo modo verso il basso in questo modo qui pazzesco può volersi in questo modo può ruotare in questo modo qui l'apertura del braccio a più di 90 gradi con butterfly joint interna che permette al braccio di andare anche in avanti in questo modo qui rotazione al bicipite piegamento doppio al gomito pazzesco anche questo piegamento al polso rotazione al polso questo qui è un pezzo separato quindi si può anche ruotare piegamento al busso abbiamo visto prima ottimo in avanti non c'è neanche il gap vedete hanno colmato anche il difetto del gap qui cosa molto importante con un pezzo aggiuntivo dentro piegamento all'indietro anche questo comunque ottimo rotazione al busto piegamento laterale piegamento laterale anche alla vita rotazione alla vita piegamento della gamba in avanti in questo modo più a 90 gradi piegamento anche all'indietro senza alcun tipo di problema l'apertura laterale praticamente massima rotazione alla parte superiore piegamento doppio al ginocchio piegamento del piede in giù piegamento del piede in su e piegamento alla punta del piede nonché rotazione in questo modo rotazione laterale della caviglia allora abbiamo visto le articolazioni molto velocemente di questa versione andiamo a comparare diciamo vediamo un po i movimenti per esempio questo spiderman può guardare in questo modo in alto questo spiderman può guardare in questo modo in alto ok questo via un raggio maggiore ma non è quello il punto a cui voglio arrivare ragazzi guardate c'è l'ingegneria che c'è dietro questa articolazione qui dentro questa articolazione ci sono due sfere appunto che permettono questo tipo di movimento e tanti vedete tanti altri accorgimenti all'interno qui semplicemente c'è una sfera e basta e non è il cantante e quindi c'è questa è la differenza ragazzi qui c'è l'articolazione alla base del collo con altre tante sfere qui non c'è le braccia ragazzi le braccia sono un punto fondamentale qui c'è una sfera interna con una cerniera qui che poi va a infilarsi nel braccio quindi c'è un'articolazione separata la butterfly joint che permette questo movimento incredibile dipinta anche qui dentro qui ok c'è la butterfly joint però è tutta un'altra cosa ragazzi tutta un'altra cosa il movimento è maggiore il braccio vedete è proprio molto molto più mobile rispetto a questo capite un attimo che l'ingegneria dietro conta qualcosa vedete anche questo fa il suo movimento in avanti ma assolutamente non è come quello il gomito anche vedete questo qui chiaramente doppia articolazione al gomito semplicissima la più semplice con la cerniera vedete risulta così visto da dietro il gomito questa qui doppia articolazione al gomito molto più complessa con parti in metallo vedete doppia articolazione e il gomito invece risulta così visto c'è un'enorme differenza ragazzi questo è molto molto più naturale nonostante comunque alla fine il movimento sia lo stesso questa è una cosa molto figa in realtà da vedere perché comunque questa figura i movimenti ce li ha è solo una diversa ingegneria delle articolazioni che aumentano a dismisura il costo ragazzi perché dietro tutte queste articolazioni particolari c'è uno studio anche qui il polso si piega in questo modo qui e ruota allo stesso modo qui alla mano non è che ci sia chissà quanta differenza per quanto riguarda invece il busto c'è il piegamento vedete in questo modo qui in avanti e indietro lui ha lo stesso piegamento solo che c'è anche la rotazione per esempio il movimento laterale ma ancora una volta l'articolazione all'interno ha un'ingegneria completamente diversa e molto più sviluppata rispetto a questa che è una semplice cerniera la vita anche qui abbiamo un ulteriore movimento in giù e in su cosa che qui non c'è assolutamente c'è semplicemente una rotazione anche qui all'interno vedete c'è anche questo pezzo in più insomma c'è uno studio decisamente maggiore per quanto riguarda le gambe movimento identico qui rotazione in realtà identica qui anche qui e l'apertura laterale quasi identica praticamente anche questa diciamo che qui hanno fatto abbastanza bene facendo lo stesso movimento con il minimo sforzo ma anche qui ci sono ben altre articolazioni ginocchio eccolo qui questa anche parte fondamentale ragazzi facciamo il paragone tra i due movimenti ecco qua questo è il ginocchio di questa figure che si chiaramente lo accettiamo ma questa qui ragazzi è tutta un'altra storia chiaramente chiaramente il piede anche questo può andare in su e in giù allo stesso modo solo che chiaramente questa è un'articolazione molto più sviluppata e oltretutto il piegamento alla punta del piede e se continuiamo a vedere le differenze per esempio le suole sono completamente diverse questa qui è stata dipinta questa qui no e così come anche la texture sul costume vedete questo qui non ha nulla questo qui vedete ha tutta la texture diciamo scolpita su tutto il costume e quindi ragazzi insomma c'è una bella differenza tra i due pezzi ora voglio un vostro parere voglio un vostro parere qui sotto nei commenti vale la pena secondo voi spendere praticamente più del triplo della cifra per questa figure rispetto ad acquistare questa secondo voi è giustificata la differenza di costo che c'è tra queste due figure considerando tutto quello che vi ho fatto vedere in questo video sono veramente curiosissimo di sapere il vostro parere e fatemi sapere anche quale preferite tra le due figure perché magari qualcuno può preferire questa non c'è assolutamente nulla di male lasciatemi un parere qui sotto perché sono veramente curiosissimo voglio che si crei una bella discussione qui sotto nei commenti mi raccomando mantenete toni pacati detto questo io spero che vi sia piaciuto questa recensione sì ma un po diversa dal solito diciamo con questa argomentazione in mezzo ripeto il vostro parere qui sotto è importantissimo sono curiosissimo di saperlo il like al video gratissimo così come anche la condivisione detto questo noi ci vediamo alla prossima ciao da ara dai due spiderman integrated suite e collezionate sempre